Sin Senna Ezreal, qua sta a me piccare In realtà tipo qua Kane non è male Kane è ok in Tuxin, è un matchup discreto E poi ci sono i due tizi lì E poi possiamo uscire se fare red o blu Entrambi sono ok Altrimenti possiamo giocare, dovremmo giocare vai se no Vai o Kane ragazzi Questo matchup mi piace più così, credo Decisamente, dai Devo un attimo, sì, prego Non so, non so giocare blu o red Cioè red ovviamente è più forte contro il signor Pim Pau Però, boh, alla fine gli avversari sono squishy Penso possiamo tranquillamente prendere sta roba qua E cercare di hardstompare i fessacchiotti Ma sì, ma sì, ma sì, tanto per quale le vogliamo giocare Sicuramente non per Nasus, per la bot che ci dovrebbe dare blu stack E di conseguenza dovrebbe andare bene così onestamente Gragas, uh bellino Gragas Ci piace Gragas, bel champ Forte, approvato, approvato Va bene, dai, vediamo di vincere questo game ragazzi Tra un attimo rimetto la web, un momento solo Ah, WunderdGoth420 Si chiama il nostro Gragas Immagino sia lui, anche se ogni volta Wunder diventa le partite Quindi non so se sono felice di verlo in squadra Voi avete la web avanti, quindi non lo vedete Ma whatever È Yankos Ah, questo è Yankos Oh, è tornato Si era frizzato tutto, ho avuto un attimo paura avuto Meno male Per un attimo ho avuto paura, guys Allora, chiudo un attimo questo Giochiamo con i pro Ah, ok Ci dovremmo meravigliare di questa cosa Di giocare con i pro Non credo, ragazzi Ordinare amministrazione, giusto? Perché la web ha smesso di funzionare? What the fuck? Ah, perché si è webcam? Hello? Boh, proverei a aprirla, aspetta La mia web ha deciso di smettere di funzionare Shoppera Ma forse è andato Forse è andato, sì Mmm, no Devo ricollegarlo, mi sa Vabbè, dopo lo ricollego E faccio prima questa partita, ragazzi Almeno per la levo, così Non mi intassa Non so cosa sia successo Perché prima si è frizzato il pc, non lo so Questo game non è facilissimo, eh Le nostre lane non sono estribitose Penso di pull clearare Il problema è che 2v2 probabilmente li perdiamo E perdiamo anche il 3v3, mi sa Quindi dobbiamo assolutamente evitare di scontrollarci Quando c'è X-in Per forza di cose Qua rischio di essere invaso, in realtà Non dovrei smitare X-in Dovrei usarlo per last hit Tiamo una war difensiva Oh no, Yankos Incidente topside Eh, non ho visto Nico arrivare Dovevo farci più attenzione Voglio prendere un po' di stack Ma era greedy Questo è quello che dicevo prima, comunque Le nostre lane sono una merda, purtroppo Oh, Miracle lo verranno trollato gli avversari Maybe possiamo creampare qua Sarebbe U-Jank perché X-in Non è flash Nice Stanno artrollando Se non dovrebbero morire di CS No, su P-Cax Ce l'hanno artrollato gli avversari Abbiamo Come beccato con gli interessi Abbiamo preso un botto di stack Abbiamo preso anche il DP Flash Non potevo andare meglio così Considerando che siamo più deboli early Meglio di qualunque cosa potessimo Boh, desiderare Yankos si è risuscitato Sai, sì Va bene, lì c'è la Senna Quindi non contestiamo Allora X-in ha un po' di lead Top non ci possiamo avvicinare Dobbiamo chillare Probabilmente Oh, nice Hanno openito i roaming di Senna Huge Grazie X-in dovrebbe aver recollato E dovrebbe aprire botside Quindi dovrebbe essere da quelle parti X-in Sicuramente da quelle parti Nice, bravo ecco Bravo, bravo Importante questa Perdeva parecchie waves Spira Io do mid Potrebbero fare draw Via bersai Potrebbe essere 3 Per loro Sicuramente lo fanno Oh no Nice Passi Mi deve fare 2 contro 3 Yikes In qualche modo è andata bene in realtà Siamo fortunati Madonna che danni fa sto Ecco, aiuto E dopo questa drivla Ne farà il doppio Ne farà Nice E io sbaglio ad andare a scusino Immagino Cioè nel senso dove andarci Ma in maniera più cauta Probabilmente non devo fare l'acqua in avanti Devo fare solo la doppia Verso loare E prendere tempo Però I guess Anche se sbagliamo Gli outcome poi sono Stravantaggiosi Anche se non dovrebbero Quella è che sarà ingestibile E non hanno manco fatto l'obiettivo Anche se Nostro gene Forse leggermente di Mi sembra di vedere Non so dove Start a toxin Penso Abbia Cioè dopo la morte Si è andato Offside straight Apparenzo blue Offer up Quindi in teoria Dovrebbe essere da queste parti Perché non vuole gankare top Graga è stata l'ultima Io gankarlo Abbiamo solo sblocco la forma red Se ganko fiora Però penso sia killabile Non ho tanti item Devo Sono stato stupido Se volevo guardare Bene Ho un po' di rock Va bene Sì È bene Sì Meglio ricollare Andare botto Onestamente Tra i venti Però ci sono I cosi Che non potremmo contestare Oh no Giannina un po' Troppo rassata Che si sta facendo Gianno? Nice Dobbiamo contestare Hoid Abbiamo 7 secondi Axin Se riesco a sbloccare La forma giusta Siamo Più che online Al momento giusto Boh Siamo riusciti Per appare il nostro obiettivo A quanto pare Che non dovevamo prendere Quindi Really fucking nice Mi sa che Axin Non viene nemmeno top Ah nevermind È qua È pazzo Non so se posso finire L'obiettivo Probabilmente no Vabbè Tanto abbiamo preso Prima i due It's fine Non è importante Vabbè Ma ci facciamo cari Dai Con questo game Ci rilassiamo Vorrei la forma Vorrei Devo hittare il range Ne ho bisogno Pedri Posso fare una placca Forse anche due In realtà La shit No Avete abbandonato Quello con lo shutdown da mille Che è stato Gianna Gianna traditrice Abbiamo una talpa Abbiamo in squadra Io ricollo la forma Il dragon Non lo contestiamo Se lo stanno facendo Potremmo fare No il drake Adesso qua Allora Robot Presumibilmente Vuole ricollare Axin Nella jungle Quindi secondo me Questi angolo Per draghetto Una passia di Ecco penso La one shot Di strobe Oh no Abbiamo perso Le top Va bene Dovabile se no Perché c'è Sto item Pazzesco Non possiamo Vabbè Vabbè Nezzuriamo un po' Delle esperienze Potrebbe avere Il mio basso Topside Anche se credo Sia distante Forse non l'ha ancora Fatto Magari lo vuole fare Ora Mi sa che sbedo R Ah peccato Close Nico flash Comunque Posso Più o meno No Preso Vado Per se sto Per i danni Not in mente Per una kill E invece Kind of scary La fiora Eh si Ha preso Un sacco Il shutdown No Ok Vediamo Per noi Ecco Fa un danno Che non ha senso Con la passiva Di forse Vediamo se io non posso Lancare Potevo magari C'era la pianta Vediamo Potevo anche Occuparmi di fiora Onestamente Non mi fa paura Due livelli sopra Di me Forse dovrebbe Non lo so Però con impressioni Potrei vincere Uno Con i miei Item Mia 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 Vieni qua Pirellina Vieni There we go Oddio guarda quante Pianmella Oh Pianmella Yeah GG GG Peccato non aver spesso Gli ultimi soldini Was fun Quelle fiammele Finite fuori Forse con le mie Le potevo raccogliere Non sono sicuro Bene GG Andiamo un curicino Ecco Comunque anche la botta Non era male Dai secca penta Abbiamo portato Sulle spalle Il buon Iancos Neanche un honor No Evidentemente Andeserbel Che devo dire Che devo dire Che devo fare Grazie a tutti!